Ma secondo te, Beatrice, Maria Vittoria è più presa da Alfonso o da Tommaso? Diciamo le cose come sta. Adesso secondo me è da Alfonso. Da Alfonso. Io non sono d'accordo per niente. Perché? No, non sono proprio per niente d'accordo. Intanto la storia di Alfonso. Quello che dici te io lo vedo solo come il lato comico di questa faccenda, che è lui che ha subito il tentatore a Tentation, adesso mi diventa lui il tentatore. Ma no, dai, ma veramente. Non voglio essere. Ho fatto la stessa frase. Ho detto la stessa frase. È la legge del contrapasso, la legge dell'Andrea. Ma sempre di Tentation e di grande fratello stiamo parlando. E poi senti, guarda, io ho una gran simpatia per Tommaso. E perché è toscano, perché voi giocate in casa per Toscano. Perché è toscano, perché è un ragazzo pieno di garbo, pieno di sensibilità. Perché lui non offende. La sua reazione anche in questa vicenda di Maria Vittoria, anche Maria Vittoria, te lo voglio dire anche a te, ti supera di mille miglia. Tu stai lì a pianucolare nel confessionale e lui è fuori dal grandissimo signore, nonostante anche, devo dire, la sua giovane età. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti